Non ce ne vogliano i vari Accardi, Luperini, Antenucci, Marras e tutti quelli che scenderanno in campo domenica alle ore 15 allo Stadio San Nicola, ma Bari-Palermo rievoca altri calciatori e altre categorie. A partire dai primi anni 2000, quando Luca Toni, con la maglia dei rosa nero, scendeva in campo al San Nicola in Serie B contro un Bari che vinceva incredibilmente una partita 2-1. Per continuare con il decennio successivo, quando vestivano la maglia del Palermo, i vari di Bala, Cavani e Pastore, mentre giocavano con il Bari, Bonucci, Ranocchia e altri che hanno vestito la maglia della Nazionale Azzurra. È stata sempre una sfida ricca di contenuti, o è per la rivalità delle tifoserie, o è per le ambizioni delle squadre, con il rosa nero che con Zamparini sono arrivati fino in Europa. Da Perinetti a Foschi nel ruolo di DS, passando anche per il catanese Guido Angelozzi, alle sfide con più di 20.000 spettatori, che purtroppo domenica non ci saranno a causa del Covid. L'ultimo precedente risale al 10 dicembre del 2017, quando il Bari primo in classifica si arrese 0-3 in casa alla formazione rosa nero. Era il Bari di Grosso e di Giancaspro, che poi sprofondò nell'abisso della Serie D, che l'anno dopo ha colto purtroppo anche i siciliani. Il futuro prossimo vede un Bari che deve tornare per forza a vincere, per mantenere le ambizioni del terzo posto, e un Palermo che dopo il successo contro il Foggia vuole far fuori un'altra pugliese. Come andrà a finire ce lo dirà il campo tra poche ore.